Tale e quale. Sparata di Loretta Goggi su Arisa. Critiche feroci La giurata parla di Arisa e sostiene che non abbia una grande estensione vocale. Il pubblico mugugna sui social Loretta Goggi travolta dalle critiche. Nel corso della puntata di Tale e quale show 2023. In onda in diretta venerdì 13 ottobre su Rai 1. La giurata si è ritrovata a dover giudicare la performance di Ilaria Mongiovì. Che è stata chiamata a intonare. La notte Brano tra i più celebri di Arisa e al contempo più difficili da interpretare. Essendo Rosalba Pippa una delle artiste più originali e quindi meno facili da imitare Nonostante ciò, la Mongiovì, che è una delle candidate per la vittoria finale del programma, se l'è cavata alla grande. La Goggi l'ha elogiata A far storcere il naso a una fetta di pubblico non è infatti stata la sua valutazione sulla performance. Bensì un pensiero espresso a proposito dell'estensione vocale di Arisa Le parole di Loretta Goggi su Arisa scaldano il pubblico di tale e quale show Arisa non ha una grande estensione. Non ha le famose quattro ottave, tre ottave. Come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce Lei ha tanto cuore e anima. E questa ragazza, Ilaria, pure. Così la Goggi, fuor di dubbio che la giurata non abbia voluto sminuire Arisa Però l'uscita non è venuta benissimo. Anzi è apparsa come una sparata in quanto è passato. Per certi versi, il seguente messaggio Brava perché canta con l'anima, la voce non è delle migliori Ascoltando il giudizio della Goggi, alcuni telespettatori sono sobbalzati sui loro divani, precipitandosi su Twitter e facendo piovere critiche feroci Ecco alcuni commenti a caldo. Sto sentendo dire che Arisa non ha una grande estensione vocale. Ok. Scherziamo? Arisa non ha estensione? Vabbè Loretta. Un attimo. Dire che Arisa non abbia estensione è una bella enormità. Arisa non ha le ottave. Siamo seri? E ancora. Arisa non ha una grande estensione. Loretta, ma che stai a di? Aiuto l'invidia e il dente avvelenato della Goggi? Certo come no Pausini e Arisa hanno un'estensione vocale superiore a Giorgia. È niente fa già ridere così. Comunque mi devo ancora riprendere dalla K asterisco asterisco Ata di Loretta. Arisa non ha una grande estensione vocale. Boh, l'ha mai sentita cantata?